ma matti a destra con la porta alla porta resta solo un operatore alleato restano 15 secondi 10 secondi e via restano 5 secondi disinnescatore in campo ultimo attaccante rimasto in vita disinnescatore individuato disattivatelo disinnescatore missione compiuta tor r Hai trovato una bomba Lancio la flashbang Un ricarico Dami dell'esplosione Lo vengare L'esplosione Calikare L'esplosione Felicare FULL TEAM! FULL TEAM! RECARICO! Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona, ti hanno visto! DARDO CARICATO! 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 Grazie Fermo così, fermo così. Dovete coprirlo dietro però ragazzi. Per un po' più a destra, destra, posto. Così se viene da dietro non ti può uccidere subito. So di fronte mira eh. Butta un fumo. Arriva anche maestro. Missione completata, bomba disinnescata. Già hanno bisogno di una ma... Eh non mi sono bisogno di un cazzo. Ce n'è uno sopra? Come? Ultimo nemico rimasto. Integgiate il nemico. Vedete il nemico di prendere il contenitore. Ultimo attaccante rimasto in vita. Lo so però non posso fare altro. Siamo a 15 secondi. Il tempo scade tra 10 secondi. Da me? Hanno visto ad appropriarsi del contenitore. Squadra d'attacco eliminata. Raggiungete la posizione del contenitore di biorischio. salvataggio immediato della clip grazie